...no, devi solo stare zitta a 5 minuti... Lo so che adesso vanno un sacco di moda, ma lo fanno tutti... Un altro lancio... La Galilei si tiene occupata... Psst, ehi, sono io, sono qui... Jimmy Sisca... Sono... in incognito... Sì, lo vedo... Bellissimo, eh? Quella casa è fondata sulle bugie... Ed è ora di confessarsi! Ferite Aperte 3, quello è uno dei nuovi classici... Un classico... Scusami, non avevo capito che fossi un mio fan... Già, già... Sì, lo ero... Già... Ho fatto un bel casino, eh? E non è nemmeno la prima volta... Ma si può sempre ricominciare da capo... Tipo qui... Proprio qui e ora... Voglio dire, magari non esattamente qui e ora... Non lo so se riesco a rimettere piede lì dentro... Non fa niente... Dimmi che devo cercare, ci penso io... Va bene... Ah... Bene, ok... Allora, c'è un ascensore che porta dritto al seminterrato... Lì sotto troverai delle antiche tavole sumere... Pare che le abbia incise il visitatore in persona... No, senti, dico sul serio... E quelli... Quelli fanno sul serio... Ok, ok... No, ti credo... Va bene... Ok... Se ti serve qualsiasi altra cosa... Fammelo sapere... Ok, sto per introdurmi nel Tempio della New Dawn... E? Jimmy ha accettato di registrare un messaggio per il nostro video... Sarà tutto pronto quando uscirai da lì... Attento ai serpenti... Ce ne sono sempre... Non è quel tipo di tempio, Ranch... Ma... Possono sempre esserci... Starò attento... Alla fine riusciremo ad avere un'esenzione dalle donazioni... No, la deduzione è automatica, è già nel contratto... Ma sanno si trasmette, non ci pagheremo... Perciò non arriveremo ai massimi livelli... Noi li proteggiamo... Non dovremmo progredire, non c'è una chiesa... È una buona domanda... C'è che cosa è in realtà? Forse dovremo chiedere... Perciò non ti guardo... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.